Intervista all'astronauta Edgar Michel Lei crede nella vita su altri pianeti? Oh sì, ci sono molte domande, ma c'è vita in tutto l'universo. Non siamo soli nell'universo. Lei è convinto che non siamo soli nell'universo? Oh, sappiamo per certo che non siamo soli nell'universo. Ora siamo in grado di individuare con sicurezza dove sono gli altri pianeti abitati? No, non possiamo. Certamente non nel nostro sistema solare, ma sono stati identificati un certo numero di pianeti che molto probabilmente potrebbero essere compatibili con la vita. Eh, mi è accaduto di avere il privilegio di sapere, di avere la certezza che noi siamo stati visitati su questo pianeta e il fenomeno UFO è reale, anche se tuttavia è stato coperto dai nostri governi per un periodo di tempo molto lungo. Wow, aspetti un minuto, ma questa è grossa. È tutto uno shock per me. Beh, mi spiace, non hai letto la stampa recentemente, stanno incominciando ad aprirsi. Allora, se lei mi dice Wow, queste sono molte informazioni da digerire. Aspetta un minuto. Voglio dire, ascolta, ho sentito come, tu sai, appassionati di UFO hanno affermato questo genere di cose prima, ma avere il dottor Michel, sai, il sesto uomo che ha camminato sulla luna, uno scienziato rispettato nel suo lavoro, che annuncia che siamo stati visitati dagli alieni. Allora quelli mi hanno parlato, ho voluto dirtelo prima. Allora lei crede a tutto questo? Lei crede a tutta questa idea? Beh, no. Non c'è cosa più assurda là fuori di quella che si crede, ma c'è. E' un fenomeno reale. Ci sono parecchi di noi. E' stato ben coperto da tutti i nostri governi negli ultimi 60 anni circa. Ma lentamente le notizie sono uscite e alcuni di noi hanno avuto il privilegio di essere stati informati sulla questione. Sono cresciuto nel, non so nemmeno se conoscete questo luogo, Roswell, New Mexico, dove presumibilmente l'incidente di Roswell nel 1947 ha avuto luogo. E sono venuto a conoscenza in quanto sono cresciuto lì. Sono stato in ambienti e circoli militari nell'intelligence che sanno che cosa è accaduto. Pubblica conoscenza che siamo stati visitati. Allora lei dice seriamente. Non è che tra un po' poi mi dirà che non è la verità. Mi chiedevo se sono appena incappato nell'umorismo di un astronauta che mi prende in giro. No, non lo farei, non lo farei mai. Wow, così, wow, che cosa? Voglio dire come lei è stato informato della loro presenza e che siamo stati visitati. Beh, informata è una parola. Sono stato coinvolto molto in questo lavoro. Non è il mio principale lavoro e non è il mio principale interesse, ma sono stato profondamente coinvolto in alcuni comitati e certi programmi di ricerca con molti scienziati credibili e persone dell'intelligence che conoscono la reale storia e non hanno avuto remore nel parlarmene. Qual è la vera storia? Mentre te lo sto dicendo siamo stati visitati. Siamo in contatto regolare o è stato un incidente occasionale? Bene, ora ci sono alcuni contatti in corso. Non so dirvi il perché, non lo so. Non sono a conoscenza di tutti i dettagli, in quanto non è la mia reale occupazione, ma siamo stati visitati. Il crash di Roosevelt fu reale e un numero di altri contatti sono avvenuti. E' piuttosto noto a quelli di noi che sono, puntini in puntini, stati informati, coloro vicini alla materia. Perché dunque è stato coperto? Perché non si è riliberato? Beh, la ragione risiede nel fatto che l'incidente principale avvenne poco dopo la seconda guerra mondiale. Quando negli Stati Uniti, almeno... Non posso parlare per i governi europei o dei governi sudamericani. Tutti hanno recentemente iniziato ad aprire il loro file. Voglio dire che questo discorso è aperto e se leggete in internet o guardate alcuni giornali, capite che le storie iniziano ad uscire. Ho avuto delle persone nello show che mi hanno detto che i governi hanno iniziato in disclosure. Ma questo è solo un caso. Pensa che c'è un piano per la disclosure e quest'anno i governi voteranno il sacco? Non so se sarà quest'anno negli Stati Uniti, ma abbiamo avuto in questi anni dal governo belga, il governo francese, il governo brasiliano e il governo messicano un'apertura dei loro file. Va bene, mi permetta di raccogliere le idee. Ascolti ora. Anche la Chiesa Cattolica ultimamente ha ammesso che ci potrebbe essere vita su altri pianeti e che questo non compromette nulla. Certo, è accaduto da poco. In concomitanza con le altre dichiarazioni, credo che il governo britannico non abbia rilasciato proprio tutto, ma qualcosa è stato rivelato. Ancora sta accadendo e nei prossimi quattro anni tutti gli UFO files saranno rilasciati. Pensa che questa sia una missione del Regno Unito? Non so dire quanto velocemente avverrà, ma certamente la sensibilizzazione del pubblico è in aumento. L'accettazione pubblica è in aumento. Il tentativo di disinformazione è minore. Penso che siamo al punto che alcune organizzazioni si stiano muovendo in questa direzione. Che cosa lei ha pensato in quel lungo periodo di tempo? Che cosa pensa sull'impatto che il mondo avrà quando saprà che civiltà aliene vivono su altri mondi? Beh, credi che a questo punto è probabile? O che c'è di nuovo? Penso che sicuramente negli Stati Uniti ben inoltre il 70% della gente crede senza sapere. Essi non sanno. La gente, la storia, sanno che gli UFO ci visitano e che molto probabilmente sono veivoli alieni. Non tutti lo sono. Alcuni sono terrestri. Ho il sospetto che negli ultimi 60 anni siano stati fatti studi di retroingegneria e che si siano create apparecchiature non proprio sofisticate come quell'aliene. Allora, come parte di questo, voglio dire, si sono occupati per la nostra sicurezza o sono convinti che ci attaccheranno? Oh, penso che quei giorni siano passati. Non credo si arrivi a cose drastiche come quelle. Gli alieni sono stili o pacifici? No, 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 non sono stili. È piuttosto evidente che non sono stili, altrimenti a quest'ora... Davvero? Avrebbero potuto? Non avevamo difese se questo era il loro intento. Come sono fatti? Come comunicano con noi? Hai mai visto le immagini? So che alcuni di loro sono piccoli e strani. L'ho saputo da alcuni contatti che hanno informazioni accurate. Wow! Pensa che altre persone coinvolte negli sbarchi sulla Luna sono a conoscenza di questo? Alcuni di loro, ma ancora una volta, è come per le altre persone. Se sei interessato a scavare per desiderio di conoscenza, potrei sapere di più. Perché so che lei è un ragazzo occupato a queste altre persone. Quest'altro telefono ha squillato tutto il tempo. Sono qui in questo momento. Questa è stata una delle più significative conversazioni della mia vita. Incredibile. Voglio ringraziarla per il collegamento con noi. Dottor Edgar Michel.